1.11 Sì, 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 sì. Sì. Contro spionaggio pronto. Neutralizziamo gli aerei spianemici. Tipo, ho iniziato la season 1. Ok, dato che non mi piacciono. Figa. Però una che mi piace tanto è quella dello schietro. Spia incerti i versaggi. Spia incerti i versaggi. Abbiamo un attacco radente di supporto. Spia incerti i versaggi. Volo di ricognizione concluso. Porta di sinistra. Bomba alto sganciata. Spia incerti i versaggi. Mezzo in volo. Ricognizioni aeree in corso. Scusa.